Con Marconi ci ha parlato mister durante la partita? No, gli ho detto che è uno scostumato tra il primo e il secondo tempo e basta che quanto si apre la bocca bisogna avere rispetto per gli avversari e mi è sembrato che lui stesse sempre a terra. Noi abbiamo fatto una partita ottima non solo dal punto di vista dei segmenti tattici ma penso nel secondo tempo anche a livello di qualità di gioco. Intanto io dedico questo giorno meraviglioso al Presidente che purtroppo non c'è in questo momento e non è potuto essere presente e sta soffrendo in maniera illimitata spero che egli mi veda attraverso i vostri web attraverso i vostri filmati gli dico che lo voglio molto bene, che lo aspettiamo a presto e che questa giornata di oggi la dedico interamente a lui insieme ai miei ragazzi. Per quanto concerne il futuro è normale che non siamo fermi stiamo lavorando io ho detto che dopo la partita di Novara avrei incominciato a parlare con i giocatori in rosa e lo farò. Sicuramente stiamo attenzionando anche qualche giocatore. Mi dispiace perché l'Alessanti è una grossa società e anche faccio i complimenti all'allenatore prima un grande uomo e poi una grande persona. I ragazzi mi hanno detto che gli dicevano che eravamo dei dilettanti che prendiamo 1300 euro al mese che guadagniamo quanto un panettiere ma di questo ne siamo orgogliosi. Se loro ne prendono 20.000 tutta questa differenza in campo non lo si è vista. A volte la moralità copre anche i disagi economici. Allora io sono una persona schietta di grande sincerità lo ridico Enrico De Martino non l'ho mai detto oggi siamo quasi salvi è colui il quale ha voluto Capuano non contro il parere di Zavaglia Zavaglia voleva altri allenatori lui ha creduto nel sottoscritto contro l'ostracismo illimitato del nostro vecchio direttore e tutto quello che si è fatto è stato rapportato, avallato quindi è giusto dar merito ad una persona che ha preso delle decisioni quando al momento potevano essere impopolari e oggi è giusto che gli si goda questo momento. Novara Bassano Alessandria Piavia nessuno è passata qui ad Arezzo che significa? Significa che l'Arezzo intanto è una grande squadra è guidata da un grandissimo allenatore Grazie. 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 Grazie.